Buongiorno a tutti. Allora, dopo le news tristi, delle colnews finalmente, diciamo, con notizie che si potrebbero dare anche, potrei dire anche che sono fresche perché si parla di un artista che visse a Venezia ma che era di possagno e gli ha fatto fare la fine da morto però, dopo che purtroppo come tutti ci tocca a tutti e siccome se lo litigavano ha fatto un po' la fine di William Wallace, però in senso buono, non in senso distracciativo. Questa è una curiosità che neanch'io sapevo su questo grande artista. Poi parleremo di acciaio inossidabile, parleremo di acciaio inossidabile e ci sono delle notizie che vi lasceranno basiche. Infine parleremo di batteri. Eh sì, si parla di batteri, non lo so se pericolosi o meno, però hanno scoperto questi batteri in giro in un posto del mondo, dei batteroni giganti, tra virgolette, perché alla fine della fiera al batterio non è che è una roba, è un blob, però rispetto agli altri è un po' più grossino, ecco diciamo così, in un posto del mondo da libidide. Ma iniziamo ragazzi, di chi parliamo? È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui, è Antonio Canova. Antonio Canova si spense a Venezia la mattina del 13 ottobre 1822. In vita seppe trarre dal marmo i sentimenti più svariati e nobili del nanimo umano, infondendo alle sue opere sublime bellezza senza tempo. Il trapano che adoperava, tenuto appoggiato al petto per plasmare i suoi capolavori, gli causò un'occlusione dello stomaco, un avvallamento e una deformazione del torace che, insieme ad altri disturbi, lo portarono, ahimè, alla morte. Durante l'autopsia gli venne prelevato il cuore, riposto in un vaso di porfido rosso, che rimase in custodia temporanea all'Accademia di Belle Arti di Venezia. A quella data non era infatti ancora stata completata la sua tomba, motivo per il quale si generò una contesa tra la città natale, Possagno, in provincia di Treviso, e Venezia, sua adottiva patria spirituale e artistica. Il corpo del celebre artista subì allora quella che un tempo era la sorta delle reliquie riservate ai santi. Fu sbebrato e diviso in più parti, per quello, vi dicevo, ha fatto la stessa fine di William Wallace. Sapete che William Wallace vede sbebrato in 4 o 5 pezzi e ogni pezzo è stato seppellito ai lati opposti del regno per evitare appunto che venisse il suo... ci fossero gli adetti che andassero eccetera eccetera. Quindi vediamo com'è stato suddiviso. Il cuore, sede di tante operose virtù, rimase alla Serenissima. Oggi riposa nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, dei Frari, dei Frati dei Frari, in un maestoso monumento funebre piramidale decorato da figure emblematiche e progettato dallo stesso Canova, ma è poi posto in essere dai suoi allievi, che sarebbe dovuto essere quello per il celebre Tiziano. Fu poi l'iniziativa del conte Leopoldo Cicognara che lo stesso modello venne usato poi per questo monumento, che si iniziò ad erigere nei primi giorni del maggio 1827. La mano destra, simbolo di perizia tecnica e artistica, inizialmente fu posta all'ingresso della sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, all'interno di un contenitore in porfido rosso. La mano però, con il passare del tempo, diventa un oggetto bizzarro e angosciante, tanto che per un periodo restò chiusa in un armadio. Dopo varie vicissitudini, oggi si trova conservata a Possagno, in una teca, immersa in un particolare liquido, accanto alla tomba dove riposa il resto del corpo. Quest'ultimo, infatti, dopo una prima sepoltura nella sacristia della vecchia parrocchiale di Possagno, venne successivamente traslato in una cappella all'interno del tempio canoviano. Alcune libri, se qualcuno volesse approfondire la storia del buon Canova, ci sono allora di Dadati G, l'ultima notte di Antonio Canova, edito da Baldini Castoldi, ed è del 2018. Penso che magari su Amazon lo si può trovare, non lo so. Poi c'è quello scritto da apolloniembe.f Canova, adesso tra virgolette, in art e dossier della Giunti editore, edito del 1992. E poi c'è il buon Cicognara L, orazione in morte del Marche Marchese, se penso, Antonio Canova, Marche, punto, presunto, forse stia per la Marchese. Aspettate che vedo se il buon Antonio Canova era un nobile. Sapete io di... no, non leggo che... no, però ha messo Mark, quindi può essere anche Mark. Comunque, orazione in morte del Marche, punto Antonio Canova, tipografia del i.r.acc.venezia 1822, quindi magari sarà solo. Chi ha scritto invece questo bellissimo articolo è Giovanna Benedetta Pugioni, giornalista storica dell'arte che all'attivo pubblicazioni di carattere divulgativo e storico-artistico e ha svolto in carichi di collaborazione per attività inerenti il patrimonio artistico e collutturale della città di Cagliari. Ve lo dico perché è giusto essere corretti con la fonte che ha scritto questo bellissimo articolo che ho avuto l'onore di raccontarvi, anche perché magari nessuno lo sapeva, magari qualche secchione tra di voi lo sapeva. Io sinceramente ve lo dico, non sapevo che avessero smembrato il povero Canova, gli avessero messo una mano da una parte, il cuore dall'altra e il resto del corpo l'ha sposticchiato un po' da una parte, un po' dall'altra, ma comunque a Possaglio dove è nato. Detto questo ragasoli proseguiamo, proseguiamo e parliamo di acciaio. L'acciaio è inossidabile, un'invinzione che risale all'ottocento e che ha rivoluzionato l'industria a partire dagli anni 30 del secolo scorso, potrebbe in realtà essere già stato impiegato dagli antichi persiani più di mille anni prima. L'acciaio è inossidabile, una speciale lega di acciaio a basso contenuto di carbonio e ricca di crobo, particolarmente resistente alla corrosione. Rail Alipur dello University College di Londra ha recentemente scoperto che gli antichi persiani già nel decimo secolo, quindi nell'anno 1000, producevano una lega con caratteristiche analoghe all'acciaio inossidabile, aggiungendo cromite all'interno dei crogioli durante la produzione di armi e attrezzi. Il ricercatore ha trovato non solo tracce fisiche del materiale all'interno dei manufatti, ma avrebbe identificato la ricetta per la realizzazione di questo speciale acciaio all'interno di un antico manoscritto persiano databile tra il 900 e il 1000 d.C. All'epoca la produzione dell'acciaio era una pratica a cavallo tra scienza e magia e pochissime persone erano in grado di padroneggiarla. Nel testo si parla di un ingrediente segreto in grado di rendere l'acciaio particolarmente resistente al passare del tempo. Secondo Alipur l'ingrediente segreto sarebbe proprio la cromite, un minerale molto ricco in cromo che veniva aggiunto alla lega di acciaio durante la fusione. I reperti trovati da Alipur tra le rovine del villaggio di Chahak in Persia, considerato centro nevanalgico della produzione dell'arciaio, sembrano confermare la sua teoria. Gli antichi manufatti contengono una percentuale di cromo che oscilla tra l'1 e il 2%, molto meno di quello utilizzato oggi nella produzione dell'acciaio inos, ma sufficiente per fornire alla lega una buona resistenza all'ossidazione e alla ruggine. Non è da escludere, concludono i ricercatori, che il metodo si sia in qualche modo tramandato nel tempo e abbia portato alle moderne tecniche di produzione dell'acciaio. Scusate il mio raffreddore, però anche questa mi mancava, penso che anche voi probabilmente non lo sapevate, che già mille anni fa, più o meno mille, mille, cento anni fa, i persiani avevano scoperto come far diventare l'acciaio un attimino più da libidine. Ma dall'acciaio passiamo ai batteri. Sulle foglie di mangrovie in decomposizione di una palude delle antille francesi è stato scoperto un batterio che si vede persino senza microscopio e, salvo casi di presbiopia accentuata, pure senza occhiali. Il microorganismo appena descritto ha cellule a forma di filamento di due centimetri ciascuna. Ma più o meno, sì, scusate, così due centimetri dovrebbe essere più o meno così. Quindi teoricamente sì. 5.000 volte più grandi delle misure standard per i batteri e decine di volte più lunga di quelle dei moscerini della frutta, le creature lette a modello di laboratorio e che di solito si infettano con i batteri a scopo di ricerca. Ma il batterio descritto su un articolo in prepubblicazione su Bio R Siv, Bio R maiuscola Siv con la X, Siv, non stupisce soltanto in dimensioni. Anche la sua organizzazione cellulare è peculiare perché ricorda quella di creature estrane al suo regno. Il gigante, perché me lo dice due centimetri, sti cazzi, per il quale è stato proposto il nome di Tio Margarita Magnifica, Tio Margarita Magnifica, ha un lunghissimo codice genetico che non fluttua liberamente all'interno della cellula, come avviene di solito per i batteri, ma che si trova invece incapsulato in una membrana, come è tipico delle cellule degli esseri viventi più complessi, uomo compreso. I batteri sono organismi unicellulari privi di un nucleo distinto, sono classificati come procarioti, forme semplici di viventi aventi il materiale genetico disperso delle cellule della cellula e privi di organuli per distinguere le varie funzioni cellulari. Al contrario, gli eucarioti prevedono un nucleo cellulare in cui impacchettare il DNA e organelli o vescicole per organizzare le funzioni cellulari e scambiare molecole. Archei, arcaea, procarioti, micro-organismi, specie di micro-organismi. Gli archei sono micro-organismi elementari, le cui cellule sono senza nucleo, messo tra parentesi procarioti. Nel cosmo dei micro-organismi sono i più antichi, scoperti alla fine degli anni 70, sono stati trovati in tutti gli abitati. Le relazioni di parentela ed evolutiva tra procarioti, archei e batteri, ed eucarioti, i due domini in cui sono soddivisi gli organismi viventi, non sono tutt'oggi chiare. Recenti studi ipotizzano che gli archei siano l'origine della nascita delle cellule eucariote, il dominio della vita che include gli organismi dotati di nucleo, ossia gli unicellulari, protisti, e i multicellulari, le piante, i funghi, gli animali e quindi noi stessi. Anello mancante. Il nuovo micro-organismo sembra trovarsi a metà della linea di demarcazione tra questi due domini tassonovici e fa sembrare la loro distinzione superata. La sua cellula include infatti due compartimenti a forma di sacca, paragonabili ad organelli cellulari. Uno che contiene appunto il DNA e i ribosomi, organuli che fabbricano proteine. Un altro pieno d'acqua. Il codice genetico del batterio, con 11 milioni di basi e 11.000 geni, chiaramente distinguibili, è quasi tre volte più lungo di quello dei suoi simili, che mediano DNA con 4 milioni di basi e 3.900 geni. Quindi siamo quasi al triplo. 3.900 geni contro 11.000 e 4 milioni contro 11 milioni. La presenza della membrana piena d'acqua, che occupa il 73% del volume cellulare, potrebbe invece spiegare le dimensioni estralarge del batterio. Un altro batterio gigante scoperto vent'anni fa in Namibia è così grande proprio perché un'ingombrante vescicola piena d'acqua schiaccia le sue componenti cellulari sul bordo della parete cellulare. Una sola lunghissima cellula. Anche i cianobatteri, le alghe blu-verdi fotosintetiche, formano lunghi filamenti come quelli del T magnifica. La differenza è che quei fili sono composti da più cellule. In questo caso, ogni prolungamento osservabile è formato da una cellula soltanto. Un fatto che Jean-Marie Volland, biologa marina dell'Università delle Antille francesi, ha scoperto solo ora, analizzando il batterio con diverse tecniche di microscopia, dopo dieci anni che se ne conosce l'esistenza. secondo Volland, se il T magnifica non fosse continuamente spezzato dal vento o dalle onde, potrebbe raggiungere lunghezze anche superiori. Però non hanno detto se questo batterio può essere pericoloso o meno per l'uomo, perché a furia di osservare il batterio non vorrei che ti infetti, poi infetti un altro, poi infetti un altro, ci si infetta tutti e si andrà a capo un'altra volta. Abbiamo la pandemia da... vado a recuperare il dominio di questo essere. Perché... attenzione, riuscirò a recuperare il nome di questo... eccolo qua, tio margarita, tio margarita magnifica, poi dopo il tio margarita magnifica ci rende tutti magnifici e poi bisogna fare il vaccino un'altra volta, eccetera eccetera eccetera. Penso di no, perché sennò non starebbe lì così vicino a studiarla, eccetera eccetera, però va bene. Ragazzoli, spero di avervi incuriosito con queste tre notiziole libidine. Sono notizie... una... ah, come sempre bisogna ringraziare. Allora, anche per l'ultima notizia del... ringraziamo Focus. La prima notizia vi ho detto la giornalista che l'ha scritta, quindi mi sembra doveroso, ma penso che sia anche lei del gruppo Focus. Mentre invece per quanto riguarda l'acciaio inossidabile, qui andiamo sul sicuro, ringraziamo ancora Focus. Voi sapete benissimo, io lo dico quasi sempre, cerco di ricordarmelo, però lo ripeto sempre nei miei video. Le mie fonti sono Focus, scienze e notizie, cinematograph.it, gli anni 90, ogni tanto c'è The Matrix, ma ultimamente l'ho tolto perché c'erano notizie che mi lasciavano un attimino, un pochettino così, poi non vorrei andare... che magari sono quei gruppi che vanno anche oltre e poi magari YouTube mi stressa i testi e quindi preferisco stare su Scienze e Notizie, Focus, qui como, qui como, eccetera, eccetera, eccetera. Però non ne ho tantissime proprio perché preferisco stare con... tanto me ne danno tutti i giorni su Facebook notizie di tutti i generi e purtroppo mi arrivano anche le notizie brutte 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 di cronaca a cui non posso esimermi. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e naturalmente ci vediamo alla prossima. Ciao!